Giovanni Manfredonia, programmatore informatico, ha scelto il giorno sbagliato per comprare un lampadario. Oh! Sì? Sì, mi dica. Il mio nome è Burdogge. Lo sai perché mi chiamano così? Non lo so, per le guance? Le guance? Perché che c'hanno le guance? Dicevo mi chiamano Burdogge? Sì. Perché so uno che non molla mai la pre... Scusate, che sta succedendo? Vabbè, niente, sono ragazzi. Dicevo, mi chiamano Burdogge perché sono uno che non molla mai la presa. Mi stanno distruggendo il locale. Devi lasciar sto locale. Non l'ho capito. Se no, ti sponnamo tutto. Eh, ma non la sento. Ti sponnamo tutto. Oh! Chiamo la polizia. Ma che chiama la polizia? Non la sento, scusi. Non mi sento perché questi fanno un casino. Ma questi stanno facendo un casino e non la sento. Non capito? Allora, mi chiamano Burdogge. Allora, signor Burdogge. Allora, mi stanno a confondere. Va bene. Allora. Sì. E lei non lascia sto locale. E che cazzo?